Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Dreamlink. Nel scorso video ho fatto un tutorial in cui facevo vedere come mettere lisa e il logo. Ho aggiunto, però ho aggiunto un tutorial, ho messo anche lisa nel portiere per renderla più realistica. Adesso cominciamo con la partita subito. Ok, il nostro design è un portiere. Ho scordato di cambiare la cosa. Ok Ma lo di cambiare ora. Va bene. Ok Da nero Ok 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 Tutto fai schifo tu non c'è in stare atta Voglio cambiare sta cosa Ma lei la stiamo vicinando Eeeh Ah Come Siamo ancora 0-0 questo è vantaggio loro Di processo Oh Lai ho preso da noi io Vai Oh Oh Un po' c'era questa Vai Troppo 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 Faccio pure che c'è fuori me la forza Sì no Carca non puoi farmi queste cose Non so che se è un portiere io ti tengo in attacco non puoi farmi queste cose Oh 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 Giusto Giusto Perchè non lascio se mattete con te Non c'ha fatto niente Ne trovesciate Ne colpite Sì forse Sì forse sì Sì forse sì Sì forse sì Ok Finita la partita 0-0 Parigiato Vediamo che è disponibile qua Chi si sta Ma comunque non posso comprarmi nessuno perchè Sì Ibrahimovic Non nemmeno abbastanza soldi Mi andremo quasi quasi a modificare lo stadio Sì Sennò non posso andare alla costa dopo 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 e mi raccomando se il video vi è piaciuto iscrivetevi lasciate un mi piace noi ci vediamo al prossimo video ciao